I undici anni dell'uscita dell'album Where Sun Goes Down di Selena Gomez and the scene Mattedì 28 giugno 2022 la festa dell'album Where Sun Goes Down che sono undici anni e la festa inizia alle ore 17 Un appuntamento da non vettere per tutta la giornata del 28 giugno andranno in onda tutti i successi più belli dell'album Where Sun Goes Down di Selena Gomez che ha passato alla storia Tutta la giornata del 28 giugno 2022 saranno suonare e ascoltati tutti tutti i successi dell'album Where Sun Goes Down fino alle ore 17 quando inizia la festa Ragazzi festeggiamo questi undici anni dell'uscita dell'album Where Sun Goes Down di Selena Gomez and the scene il prossimo 28 giugno Una festa da non mancare, cotteremo tutti i successi più belli dell'album Where Sun Goes Down di Selena Gomez e 2011 di Selena Gomez and the scene Una festa infettibile, non vendiamo questa festa, mattedì 28 giugno alle ore 17 la festa dell'album Where Sun Goes Down Una festa da non vettere